Sulla San Marco aleggia nuovamente lo spettro dei licenziamenti. Sono 80 gli esuberi annunciati lunedì dall'azienda di Atessa che produce cassoni per veicoli commerciali anche per la vicina Sevel. Nonostante il recente cambio di gestione la nuova direzione aziendale ha confermato gli 80 licenziamenti già annunciati nel mese di settembre scorso. Il piano industriale presentato nel 2017 invece prevedeva la conservazione dei 163 posti di lavoro, dice la FIM Cisle, ed i lavoratori hanno rinunciato a gran parte del contratto di secondo livello proprio per salvaguardare i loro posti di lavoro. Si sperava che con l'aumento della produttività continua la FIM la San Marco potesse portare avanti nuove lavorazioni o attrarne per evitare i licenziamenti collettivi ma ad oggi la situazione non è questa e con gli accordi siglati sono già andati via 28 dipendenti. Polemica anche la FIOM che con il segretario Alfredo Fegatelli denuncia comportamenti scorretti da parte dell'azienda. Ci sono state fatte ascoltare delle registrazioni fatte ad alcuni lavoratori dove ovviamente si sta creando un clima di preoccupazione da parte di tutti quanti perché oltre alla possibilità di essere licenziati anche la possibilità che uno non possa esprimere liberamente la propria opinione diventa un problema abbastanza serio. Inoltre riteniamo che l'accordo che è stato firmato per quanto riguarda diciamo le dimissioni volontarie che dovrebbe essere utilizzato come prevede il DPCM e prevede che l'azienda utilizzi la cassa integrazione come strumento di incentivazione. Noi riteniamo che questo sia altamente sbagliato e anzi chiediamo che l'Inps intervenga per verificare se questo accordo è un accordo corretto o non è corretto. In contrasto con la FIM e la FIOM e invece la WILM Achille Di Sciullo della segreteria di Chieti Pescara parla di un numero di esuberi pari a quello dichiarato dalla precedente dirigenza e di uno stabilimento che ha avuto una produzione del 30% in più ed è pronto a ripartire.